Salve a tutti sono Jensen e benvenuti ad una nuova puntata di questa rubrica che ormai va avanti da un po' di episodi. Il gioco di oggi come vedete è Ratchet & Clank, per la previsione di Ratchet & Clank 2 fuoco a volontà, della versione rimasterizzata in HD della trilogia per l'appunto di Ratchet & Clank. Questa grande saga che ha avuto molto successo su Playstation 2 dove è anche nata. Ho scelto Ratchet & Clank 2 fra i tre perché è il mio preferito e secondo me il migliore di tutti i Ratchet & Clank usciti su qualsiasi console, per intenderci. Spieghiamo brevemente la storia in generale dei nostri protagonisti. Ratchet è un Lombax che viene dal pianeta Veldin e si presume, almeno lui pensa di essere l'unico della sua specie, ma incontrerà proprio in questo capitolo un'altra Lombax. E su PS3 un altro Lombax e comunque scoprirà di non essere il solo. Clank invece è il figlio del costruttore del grande orologio che tramite un errore di fabbrica, mentre era in corso la fabbricazione di vari robot in serie, viene fuori questo Clank. I due si incontrano su Veldin, mentre Ratchet è intento a costruire una navetta spaziale. Quando vede una specie di meteorite cadere poco distante da lui, decide di andare a controllare e trova per l'appunto Clank, che all'inizio è questa scatoletta metallica chiusa in se stesso, proprio fisicamente. Perché mi piace molto la saga di Ashton Clank? Perché ha un alto tasso di giocabilità e anche su PS2 aveva una grafica veramente ottima, per l'appunto per essere su PS2. Un altro fattore sono le armi, che sono molto varie e ben studiate, e ognuna con un suo potenziale ben preciso. Senza contare anche tutte le varie armature e gadget, che sono praticamente infiniti, per modo di dire, naturalmente. Comunque c'è un alto tasso di strumenti, sia tra armi che gadget e armature che potete utilizzare. Questo rende il gioco ancora più emozionante e vario. Tra le collection rimasterizzate in HD che sono uscite in questi mesi, Ratchet & Clank è stata una fra le più attese. E provando anche in prima persona, perché da appassionato della saga non potevo farmela mancare, posso dire che l'HD ridà vita veramente a questi miti che ci hanno accompagnato su PS2. E soprattutto per il prezzo che ha, questa trilogia è stata una delle più vendute, perché dà tre giochi interi e moltissime ore di gioco vere e proprie. Un'aggiunta importante è l'inserimento dell'online in Ratchet & Clank 3, che non ho ancora provato perché sto andando in ordine a farli, e li ho rifatti anche più di una volta, in modalità sfida. Una novità, insieme all'online, è l'utilizzo del 3D stereoscopico per chi possiede televisore 3D. Una cosa che mi ha lasciato un po', diciamo, così, ecco, sono le scritte, i peghi scritti dietro la confezione, cioè paura e violenza. Ora, violenza un pochetto posso capirlo, perché comunque vai in giro a sparare raggi laser a dei mostri, degli alieni e a fare pezzi robot, ma paura io non vedo dove possa stare, anche perché il peghi è 7. Quindi, non so cosa ti sia venuto in mente mettendo questi peghi. Questa trilogia è uscita su PS3 e rimasterizzata, anche per il decimo anniversario di questa incredibile coppia, che ormai, per l'appunto da un decennio, ci fa vivere veramente dei giochi completi e emozionanti. Passiamo ai pro e ai contro di questa trilogia, di questi giochi in particolare. I pro possono essere che i tre giochi sono ancora attuali e molto divertenti, quindi, riproponendo i migliori giochi di questa saga, hanno avuto veramente un'ottima idea. La grafica rende al meglio, soprattutto nel terzo capitolo, il gioco in sé. E i tre giochi offrono una sintesi azzeccata tra platform e shooter. I contro, non ce ne sono molti. L'unico vero contro può essere che, come me, se l'avete giocato già dieci anni fa su PS2, può essere solo ripetibile. Ma comunque, come ho detto, l'alta risoluzione e, per chi ha la fortuna, il 3D, rendono il gioco completamente rigiocabile e riappassionante. Si può dire riappassionante? Non lo so. Parliamo un attimo dei live che offre YouTube tramite Hangouts, che, non so se avete visto, abbiamo già anche provato non live ufficiale per l'appunto delle prove. Fateci sapere se volete vedere questi live, magari anche quante volte a settimana, o se avete un giorno preciso. noi siamo qui apposta per voi. No, principalmente per noi, per divertirci, ma ci siete anche voi, dai. Però, appunto, questi live, ho visto che si può condividere lo schermo, quindi non supporta Portal 2, che sto giocando, o meglio, lo supporta, ma c'è un lag veramente alto, ma invece supporta bene Minecraft. Quindi ho pensato di iniziare una sopravvivenza nella 1.3.2 appunto in live. Ok, il video finisce qui. Ringrazio l'Insomniac per aver riproposto questa trilogia soprattutto a un prezzo relativamente basso. E che dirvi, ci vediamo alla prossima puntata di Quel che passa il convento.